Musica Pensate che cosa vuol dire sul turismo, usare il digitale, sui beni culturali? Pensate che cosa vuol dire cambiare la scuola e avere finalmente degli studenti che escano a scuola con la formazione giusta? Faremo un esercito di talenti nuovi. Il futuro è di tutti e i Champions ci aiuteranno a raggiungere. Noi quello che siamo e che vogliamo essere adesso unendoci è i medici senza frontiere dell'innovazione. Che vuol dire che non siamo migliori degli altri sul digitale, ce ne sono di brevissimi fuori, fantastici. Noi abbiamo deciso di dare un pezzo importante alla nostra giornata gratis agli altri. Perché crediamo che questa sia l'occasione fondamentale per il nostro paese. Lo è per il nostro paese, lo è per i nostri figli, lo è per il nostro futuro. Si può cambiare. L'abbiamo chiamata tante volte l'innovazione senza permesso. Si può cambiare, dobbiamo crederci, dobbiamo essere i primi a crederci, ma a voi non ve lo devo dire perché so che lo farete. Grazie a tutti.